Annullare il mercato dei diritti che ci sono e devono essere riconosciuti ai cittadini. E' questo il progetto principale dell'avvocato penalista Ernesto Pino, che si candida a sindaco del comune di Mascali, ieri ha sciolto ufficialmente le riserve. Perché tramite il riconoscimento e l'attuazione dei diritti dei singoli cittadini, senza che questi debbano essere chiesti a quell'altro potente di turno, significa già fare un notevole passo avanti per rientrare e cercare di raggiungere quella normalità che a mio avviso è lo scopo principale per chiunque dovesse essere il sindaco di Mascali. Tra i progetti in lista un intervento urbanistico per dire no alla cementificazione. Non possiamo nascondere ovviamente che lo sviluppo dell'attività edilizia è trainante anche per l'attività lavorativa. Quindi non possiamo che essere noi fautori di uno sviluppo di questa attività, ma ovviamente pur che sia all'interno e nel rispetto delle norme urbanistiche e soprattutto della vivibilità della cittadina. Rendere vivibile la cittadina di Mascali da due anni commissariata è questo il punto principale del programma di Ernesto Pino. Non dobbiamo dimenticare che in una città di quasi 15.000 abitanti che si estende per un grandissimo e vastissimo territorio noi abbiamo un contingente in caserma di nove carabinieri. E per quanto valorosi, per quanto lavoratori, per quanto le croniche di ogni giorno danno atto della loro attività e dei loro risultati restano sempre nove.